Ciao, mi chiamo Yuri Martignone e faccio il liceo classico. Fin da piccolo mi faceva leggere e anche scrivere e il mio racconto, bianco, è un po' un'unione di tutto ciò che mi sono trovato a vivere fino a quando ero in seconda media, ossia dieci interventi chirurgici dal momento che sono nato con una labiopaloschisi bilaterale e questo racconto mi ha dato la possibilità di raccontare di quello stano mondo ospedaliero con gli occhi semplici di un bambino.